Al Comune di Cantalice arriva la diffida da parte della Prefettura per non aver rispettato i tempi per l'approvazione del bilancio. Certo, questo fatto non è andato giù alla minoranza, che colpisce duramente la Giunta per aver presentato non solo in estremo ritardo un atto così importante, ma anche per le modalità con il quale è stato presentato. Schiacciato in quattro righe e mezzo, quelle delle conclusioni, dichiarano i consiglieri Maica Panfilo e Roberto Baldi. Dunque poche righe sono sembrate sufficienti alla maggioranza per spiegare ai cittadini le scelte politiche e amministrative dell'ente. Una spiegazione più dettagliata, infatti, doveva essere fornita in merito all'indebitamento, che è passato da poco meno di 530 euro del 2012 ai quasi 790 nel 2013 a cittadino. Inoltre, il Revisore dei Conti aveva segnalato la necessità di effettuare un'analisi ulteriore dei residui attivi e passivi, ma quest'ultimo parere, dichiarano i consiglieri, è stato depositato solo il giorno prima del Consiglio, senza che la minoranza avesse il tempo di leggerlo. Perché? Chiedono i consiglieri. Grazie a tutti.